Grazie, grazie, salve. Il mio nome è Mauro Bonazzi, insegno storia della filosofia antica. Ho insegnato prima a Milano, poi ho insegnato in diversa università francese e adesso mi trovo insegnare a Utrecht, nei Paesi Bassi. Perché ho studiato filosofia non lo so, mi ricordo quando ero studente come voi al liceo il professore mi disse, Mauro tu sei bravo ma di filosofia non capisci niente. Eppure dopo tanti giri, tante peripezie, alla fine la passione è risultata più forte di tutto e quindi ho continuato a insistere e insistere affinché eccomi qua pronto a parlare con voi. Sì, una bella domanda. Allora, noi viviamo in un'epoca che va veloce, viviamo in un'epoca in continua accelerazione, in cui tutto cambia continuamente senza che noi riusciamo ad avere, come dire, il controllo di quello che ci sta succedendo intorno. È come andare in macchina, andare sempre più veloci o come anche giocare in un videogioco e andare sempre più veloci. a un certo punto l'obiettivo diventa solo quello di non sbattere, di superare gli ostacoli, senza capire veramente dove vogliamo andare e quello che vogliamo fare. Ecco, comprendere il passato, comprendere da dove veniamo, significa anche in qualche modo comprendere quello dove vogliamo andare, comprendere la traiettoria. Per questo conoscere il nostro passato è così importante e per questo gli antichi, il mondo antico è così importante, perché in fondo è da lì che noi proveniamo. C'è però un altro problema che dobbiamo discutere velocemente per capire veramente perché gli antichi sono così importanti, perché molto spesso noi tendiamo a parlare degli antichi, del mondo greco, dei filosofi greci, come in qualche modo fossero perfetti, avessero realizzato tutti gli obiettivi e fossero in possesso di tutte le risposte che ci servono nella vita di oggi. Ma questo è un modo abbastanza banale, abbastanza sterile di usare gli antichi, di leggere gli antichi, perché sostanzialmente quello che succede quando ci rivolgiamo agli antichi come se fossero, come dire, dei sapienti che hanno già capito tutto, significa impoverirli, perché alla fine in qualche modo quello che troviamo è quello che già conosciamo, cioè semplicemente troviamo delle conferme ai nostri pregiudizi, alle nostre convinzioni, alle nostre idee, è un modo appunto inutile e banale di leggere gli antichi, in fondo nessuno ci obbliga a leggere il mondo antico, a studiare gli antichi. In realtà appunto secondo me quello che rende il mondo antico così interessante e così appunto perché vale ancora la pena leggere autori, filosofi, scrittori che sono vissuti duemila, duemilacinquecento anni fa è esattamente il contrario, non tanto perché sono come noi, ma perché sono diversi da noi, perché in qualche modo ci presentano i problemi con cui noi dobbiamo confrontarci in un modo diverso, perché i problemi sono sempre gli stessi, no? Da quando ci sono gli esseri umani i problemi che dobbiamo affrontare sono sempre gli stessi, no? Che cos'è la felicità, che cos'è la giustizia, che cos'è l'amore, come vivere insieme felici, no? Questi sono i problemi, non è che sono cambiati, sono sempre gli stessi, ma le risposte, le domande degli antichi sono diversi. In qualche modo gli antichi quando li leggiamo veramente, non semplicemente appunto cerchiamo delle conferme alle nostre idee, allora gli antichi ci offrono delle prospettive spiazzanti, delle prospettive diverse che ci permettono magari di capire meglio anche, come dire, le sfide che abbiamo di fronte. Forse possiamo fare un esempio per spiegare bene la situazione, no? Pensiamo ad esempio a uno dei temi più importanti, penso che oggi ne parleremo tanto, ad esempio il tema della felicità, no? Tutti sanno che cos'è la felicità e tutti sanno che la felicità è importante, ma davvero sappiamo che cos'è la felicità, no? Proviamo a pensare che cos'è la felicità oggi, se noi provassimo a riflettere insieme su che cosa sia la felicità, potremmo dire, ma sì la felicità, guardiamo ad esempio le pubblicità, no? Perché le pubblicità molto spesso ci offrono uno spaccato, una visione di quello che pensiamo e le pubblicità sono sempre costruite allo stesso modo, no? C'è qualcuno che in qualche modo è triste, infelice perché gli manca qualcosa e la pubblicità suggerisce che c'è qualche cosa che ti manca e ti renderà felice, no? La macchina, il viaggio, le scarpe, il cellulare nuovo, queste sono le cose. Nel momento in cui otterrai quello, nella pubblicità improvvisamente sei felice. Allora sostanzialmente l'idea di felicità che abbiamo noi è sempre legata a un possesso o a un momento, no? La felicità è un momento di intensa emozione che in qualche modo mi ripaga dei dolori della mia esistenza. Ora, se un antico avesse guardato noi e avesse guardato le nostre pubblicità sarebbe rimasto allibito, sarebbe rimasto sconvolto dalla nostra, diciamo, vorrei dire stupidità, magari diciamo ingenuità, perché, come dire, ottenere un momento di intensa emozione non è difficile, facilissimo, no? Volete quelle scarpe? Pensi che ottenere quelle scarpe sia qualche cosa che ti può rendere felice? Ma allora comprali, che problema c'è? Ma evidentemente quello non è il problema della felicità, il problema della felicità è un altro, il problema della felicità è quello di vivere una vita felice, quindi non è un problema che si risolve nell'istante, nel godimento dell'istante, la possibilità è quella di costruire una vita felice e questa è una sfida molto più impegnativa, perché come si fa a costruire una vita felice? È possibile costruire una vita felice, perché vedete che intervengono a questo punto una serie di problemi molto più complicati e molto più ricchi, perché, come dire, comprare un paio di scarpe è qualcosa che possiamo fare, ma costruire una vita felice è qualche cosa che in qualche modo ci costringe a considerare anche delle cose che non dipendono da noi. E questi sono problemi importanti, che ancora di più ci sollevano poi domande ancora più interessanti, perché poi il problema è anche per capire che cosa vuol dire vivere una vita felice, bisogna anche capire poi chi siamo noi veramente, che cosa vogliamo veramente, ed è una domanda come dire di nuovo, ma certo lo so benissimo che cosa sono e che cosa voglio, no? E invece la filosofia antica dice aspetta prima di dirlo, pensaci bene. E questi sono alcuni degli esempi appunto che ci fanno vedere come appunto quello che rende interessante la filosofia è proprio la distanza e la capacità in qualche modo di spiazzarci, di farci vedere i problemi da e la prospettiva inattesa che improvvisamente rendono le nostre esistenze più interessanti. E questo penso appunto per questo, per i problemi, per le domande e non tanto per le risposte, penso che valga la pena ancora interessarsi dei filosofi antichi. Buonas, Mauro. Usted è un esperto in Platone. Quali crei che sono le principali insegnazioni che ci ha lasciato? Eh sì, Platone sicuramente è uno dei filosofi più importanti, non solo del mondo antico, è uno dei filosofi più importanti in assoluto. Un pensatore americano ha definito la filosofia, tutta la filosofia, la storia della filosofia dall'inizio ad oggi sostanzialmente una serie di note a piedi di pagina del testo di Platone, perché effettivamente, come dire, la filosofia è un continuo ritornare a Platone cercando di comprendere quello che lui aveva fatto. E il problema appunto è quello di capire perché Platone è così importante, perché da un certo punto di vista è sorprendente che Platone sia ancora così attuale, così al centro di tutte le discussioni, che ancora oggi appunto ci siano dei pensatori che pensano e ritengono che il compito della filosofia è quello di confrontarsi con un filosofo che ha vissuto 2.500 anni fa. No, ma perché ancora Platone? Voi lo conoscete, lo avete studiato, è abbastanza sorprendente perché le tesi di Platone, le teorie filosofiche di Platone, sembrano delle teorie assurde, onestamente, ma ancora oggi dobbiamo pensare che l'anima è divisa dal corpo, che l'anima è mortale, che l'anima si reincarna in un altro animale. Come dire, sembra che ormai la scienza ci stia facendo vedere che queste sono teorie ormai che non hanno più grande importanza, oppure la famosa teoria delle idee, da 2.500 anni stiamo cercando di capire che cosa intendesse Platone e ancora probabilmente non lo ha capito nessuno. Quindi da un certo punto di vista Platone è un filosofo misterioso perché sembra appunto un filosofo del passato che non ha più molto da dire, ma questo è un modo, come dire, manualistico di studiare Platone, no? Si prende Platone, si dicono le teorie, la teoria delle idee, la teoria dell'anima, la teoria dei filosofi al potere. In realtà quello che bisognerebbe fare con Platone è un'altra cosa, quello che bisognerebbe fare è leggere Platone, provare a guardare Platone, perché Platone è lì nei suoi testi, è una sfida perché Platone è lì nei suoi testi ma non c'è, è l'unico autore che non c'è presente in prima persona nei suoi testi, questo è un dettaglio, un particolare che molto spesso non viene preso in considerazione e invece della massima importanza tutti gli altri filosofi scrivono dei libri per esprimere il loro pensiero. Platone ha scritto dei dialoghi in cui non compare mai, in tutti i dialoghi compare una volta per dire che lui non c'era perché era malato, quindi è un'assenza totale. Allora dov'è Platone? No, dov'è Platone in quei dialoghi? Platone è lì da qualche parte ma dobbiamo trovarlo e allora se iniziamo, come dire, a leggere con attenzione i dialoghi, non a preoccuparci, ancora una volta, non a preoccuparci delle dottrine, delle idee, ma a preoccuparci dei problemi e delle sfide che Platone ci sta ponendo, allora Platone diventa interessante e diventa interessante perché diventa veramente come una caccia, no? Per cercare di capirlo, perché lui è lì da qualche parte che ci sta aspettando. Allora faccio degli esempi, no? Ad esempio nei dialoghi voi sapete che sono dei testi bellissimi che alternano momenti in cui c'è una discussione molto serrata, no? Di confronti, argomentazioni, discussioni quelle che noi immaginiamo filosofiche. Poi ci sono dei momenti dove Platone, come dire, prende un tono più leggero come per darci un momento di riposo quando racconta dei miti, ad esempio, no? Ci sono dei miti famosissimi nei dialoghi di Platone, ad esempio quel mito bellissimo che racconta Aristofane nel simposio, no? A un certo punto racconta la storia dell'origine degli esseri umani, perché noi non eravamo così, racconta Aristofane, noi eravamo delle sfere, non eravamo esseri con due braccia, due gambe e una testa, noi in realtà eravamo delle sfere con quattro gambe, quattro braccia, due teste che rotolavamo velocissimi. Poi avevamo, come dire, peccato di arroganza, perché avevamo pensato di essere quasi divini, di poter diventare divini, dei. E gli dei ci avevano punito tagliandoci in due. E Aristofane racconta con grandissima attenzione cosa succede, no? Che ci tagliano, che ci tirano tutte le parti della pelle che sono rimaste nell'ombelico, così si vedono qua delle linee, cosa succede, che ci spostano la testa, c'è tutta una descrizione. E uno legge, legge, come dire, con piacere, finalmente un momento di rilassamento dopo le discussioni così difficili, no? Un momento non importante filosoficamente, perché poi inizierà la filosofia. E invece, improvvisamente, il discorso si fa serio, perché dice, voi che stavate prendendo… Tu, caro lettore, che stavi prendendo, come dire, che stavi leggendo con un sorriso di questi uomini buffi, che rotolavano, rotondi, e che invece… Ma perché devono essere buffi? Ma perché devono essere buffi invece? Perché tu pensi di essere bello, no? Tu che sei un essere imperfetto, tagliato, no? L'immagine è molto bella, perché quando lui descrive gli addominali, i muscoli qua, no? Tutti i ragazzi sono fieri dei loro muscoli addominali. E invece Platone dice, ma perché? Ma perché quello dovrebbe essere bello? Ma vi siete mai chiesti che cos'è veramente la bellezza? No? Perché voi pensate di sapere che cos'è la bellezza, ma non me lo chiedete. E poi ancora di più, ancora più in profondità sempre quel mito ti racconta. Cos'è che ci sta dicendo? Cosa vuol dire questa cosa che eravamo tagliati? Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che siamo efferi imperfetti, che ci manca qualcosa, che quello che veramente caratterizza gli esseri umani è il desiderio, perché tutti noi siamo in cerca di una metà perduta, ma il problema è di che cosa siamo in cerca, no? In questo momento Platone, appunto, con un racconto divertente, ci sta vedendo ancora una volta come il pensiero antico è capace di spiazzarci, no? Intanto ci dice, ma perché ridevi di quelle persone? Perché pensi di essere bello tu? No, ma perché? E poi ancora di più, ma ti rendi conto che tu sei questa mancanza, che tu sei un animale che desidera e che se non capisci che cosa stai desiderando, non potrai mai capire come vivere una vita felice, perché tutti noi, dentro di noi, ci rendiamo conto che ci manca qualcosa. No, l'amore è questo, è questo desiderio di trovare quello che ci manca, il desiderio, appunto. Ma di che cosa? Questo non lo sappiamo. Oppure, tanto per fare un altro esempio che mostra, appunto, la sfida di Platone, no? Vedete, quindi la sfida è, ma cerca di capire, no? Di che cosa siete in cerca, cerca di capire di cosa si cerca. Cerca di capire cos'è questo desiderio, perché tu sei il tuo desiderio, ma cosa desideri non lo sai ancora. E l'errore che tu stai facendo è quello, in qualche modo, di farti dire dagli altri che cosa devi desiderare, no? Quello che dicevamo prima, il cellulare, la macchina, ma è veramente quello che vogliamo. Oppure, per fare un altro esempio, ho preso da un altro, forse il dialogo più bello di tutti, no? La Repubblica, che è un capolavoro assoluto della filosofia greca, in generale tutta la filosofia, peraltro. La Repubblica, voi lo conoscete, è un testo strano, perché come al solito non si sa di che cosa si sta parlando, no? Tutti dicono la Repubblica è il dialogo in cui Platone descrive la città ideale, costruisce la sua teoria politica. In parte è così, nel senso è vero, Platone parla di queste cose nel dialogo, ma nel dialogo quello che sta facendo Platone, la sfida a cui il protagonista del dialogo deve dare una risposta, è un'altra. Ed è, come dire, deve dimostrare, Socrate, il protagonista del dialogo, deve dimostrare ai suoi amici, ai suoi interlocutori, che in qualche modo, l'unico modo per essere felice, vedete che i temi poi sono sempre quelli, no? Che torniamo sempre a parlare delle stesse cose, se vuoi essere felice devi essere giusto, che soltanto se sei giusto sarai felice. La tipica reazione quando si legge questo problema è quella di dire ma che scoperta, ma che banalità, lo sanno tutti che devi essere giusto, lo sanno tutti che la giustizia è importante. Di che cosa dobbiamo parlare, no? Qual è l'interesse di questa storia? E allora Platone racconta un'altra storia, un altro mito. Una racconta di questo pastore che viveva in terre remote, lontanissime, nella Livia, come dire, il lontano eriente dove sempre accadono cose fantastiche. C'era questo pastore che girava, un bel giorno ha trovato, come dire, una specie di voragine nella terra, è entrato, ha trovato un uomo gigantesco, nudo, morto, che aveva soltanto un anello. E lui naturalmente cosa aveva fatto? Aveva preso l'anello e se l'era messo al dito. Poi era andato, come dire, alla riunione di tutti i pastori con il re, come che sempre si svolgeva in periodi di tempo determinati. E mentre era lì che parlavano, lui si era reso conto che quando girava il castone dell'anello all'interno diventava invisibile. E cosa ha fatto? Dice Platone, no? Cosa immaginate che abbia fatto Gige, perché questo era il suo nome, quando ha scoperto di avere questo anello da questi poteri fantastici? Naturalmente, dice Platone, naturalmente cosa ha fatto? Ha ucciso il re, ha sposato la rogina e è diventato l'uomo più potente del mondo. Cosa doveva fare? E di nuovo uno pensa, ma sì, va bene, ma queste sono quelle cose strane che avvendono in Oriente, queste terre fantastiche e favolose dove si ammazzano, si seducono le principesse. Cosa c'entra con noi? Ma la domanda è proprio fatta a noi, perché la domanda è tu, caro lettore, che pensi di sapere tutto, che pensi di sapere che la giustizia e la felicità sono importanti, ma tu, se tu avessi questo anello, che cosa faresti? Io spero che nessuno di voi abbia voglia di uccidere nessuno, ma se si dicesse, to, con questo anello puoi realizzare tutto quello che vuoi. Puoi ottenere il voto massimo a scuola senza studiare, puoi comprarti il cellulare dell'ultimo modello, puoi rubare la fidanzata del tuo amico o il fidanzato della tua amica, puoi fare tutto quello che vuoi e nessuno se ne accorgi. È l'impunità, non è difficile, basta avere un buon avvocato. No, cosa faresti tu? E allora vedete che il problema della giustizia e della felicità non è un problema così banale, perché vi rendete conto che a questo punto c'è uno scontro, perché se voglio essere felice, la nostra idea è che se voglio essere felice, devo essere ingiusto, devo poter realizzare i miei interessi. La giustizia invece è un ostacolo che mi impedisce di essere giusto. Il protagonista della Repubblica, l'avversario di Socrate, lo dice molto chiaramente, se sei giusto, sei stupido, perché fai l'interesse di qualcun altro e ti impedisci la vita felice. La sfida di Platone invece è ancora una volta la stessa, ma siamo davvero sicuri che così? La domanda è sempre la stessa, no? Ma tu che cosa vuoi veramente? Pensi davvero che, come dire, realizzare quel desiderio sia quello che ti dà la felicità, oppure, come dire, bisognerebbe riconsiderare ancora una volta chi siamo veramente noi stessi, per poter capire che cosa vogliamo veramente? Perché la sfida di Platone, vedete, a questo punto è tutta questa, è quella di farci capire che noi siamo questo desiderio. Vedete che torno sempre a parlare del desiderio, perché questa è l'idea di Platone, noi siamo desiderio, perché noi siamo esseri imperfetti che desiderano. E il problema è che cosa desideriamo? Molto spesso si ha un'idea negativa del desiderio. Il desiderio è una passione che ti travolge, è quella di Gige che ruba, che uccide. No, invece Platone vuole dire che noi siamo anche altro, che c'è un desiderio di bellezza, c'è un desiderio di bene dentro di noi, che se saremo capaci di risvegliarlo, ecco che finalmente potremo vivere una vita felice. Ma non è facile, perché, come dire, viviamo in un mondo che ci fa pensare diversamente, che ci fa pensare che abbia ragione Gige. E allora ecco che Socrates ci metterà, povero Socrates ci metterà dieci libri prima di convincere i due interlocutori che la giustizia è importante per la felicità. Però vedete, il problema, ancora una volta, è la sfida. Allora, se uno prende Platone come una sfida, come io cerco sempre, quando leggo Platone, cerco sempre di far vedere che ha sbagliato, non ci riesco mai. Però imparo tantissime cose, perché appunto lui è sempre lì che ti aspetta, no? Bravo, adesso hai capito il problema. Adesso vediamo se sei capace di trovare una risposta. Però ricordati, la filosofia non sta riguardando, come dire, solo problemi teorici. Sta parlando di te e della tua vita ed è per questo che siamo sempre lì, girando intorno al povero Platone, che ci aspetta sempre lì, nascosta da qualche parte, prima o poi lo troveremo. In occasioni si allude a los classicos griegos para defender los derechos humanos, pero también para justificar el racismo o el colonialismo. ¿Cómo se explica esto? Sì, questa è una domanda importantissima, della cui importanza ci stiamo rendendo conto, soprattutto in questi ultimi tempi. Fatemi iniziare ancora una volta con un esempio concreto che fa vedere la complessità di questi problemi. C'è un film bellissimo che è stato girato 70 anni fa, nel 1936. Il film è quello di Olimpia, che era il film che in qualche modo raccontava le Olimpiadi di Berlino del 1936. La regista è una delle registre più importanti di una storia del cinema che è Eleni Riefenstahl. Le scene iniziali del film, le potete vedere facilmente, basta cercare su YouTube, i primi minuti proprio, sono bellissime. Il film inizia in Grecia, inizia in Grecia. Si vedono delle immagini bellissime di statue greche, di templi greci. Piano piano queste statue prendono vita, diventano degli esseri umani che iniziano a correre, a correre e piano piano vedono che arrivano fino allo stadio di Berlino, dove appunto si celebrano i giochi. E lo stadio di Berlino nel 1936 non è proprio un posto senza importanza, perché quando entrano nello stadio sono accolti da una serie di mani tese e di svastiche, perché quella è la celebrazione delle Olimpiadi di Hitler e le immagini iniziate con le statue greche, il Biscopolo di Mironi, la venere di Milo, si concludono appunto con un primo piano sulla faccia di Adolf Hitler. Quella è un'immagine appunto che ci racconta il problema di cui dobbiamo parlare, perché appunto qual è il messaggio di quel film, qual è il messaggio di quelle immagini? Il messaggio in qualche modo è che in tedeschi la Germania nazista è l'erede della Grecia ed essendo l'erede della Grecia, l'erede dell'Europa, è la salvatrice dell'Europa. Il messaggio è molto chiaro, Hitler addirittura svilupperanno i studiosi, ideologi a servizio di Hitler svilupperanno addirittura una teoria secondo cui i greci, i tedeschi, sono gli eredi biologici dei greci, non soltanto spirituali, cioè vuol dire che i veri greci prima erano al nord, poi erano dovuti andare al sud in Grecia, sono i famosi dori di cui si parla sempre, le invasioni d'oriche, quando appunto, perché in Germania al tempo al nord Europa era troppo fredda, c'erano le paludi, non si potevano vivere, adesso finalmente il messaggio del film stavano tornando dove dovevano stare, l'uomo nuovo, l'uomo nuovo è l'uomo nuovo greco e nazista. Allora questo è forse l'esempio più clamoroso di queste appropriazioni, che sempre ci sono state dei greci antichi. No, questo è il caso più eclatante, un altro punto conferma, ma basta pensare anche all'Italia fascista con Roma, con l'impero romano, con i romani latini, però appunto, ad esempio, un'altra cosa interessante, no? Voi sapete chi è il filosofo più importante nella Germania nazista? Non è Nietzsche, come si ripete sempre, è proprio Platone, perché Platone in qualche modo con la sua teoria del filosofo è, gli ideologhi nazisti dicono che il filosofo è Hitler, ecco Hitler che realizza finalmente lo stato ideale di Platone. Allora, qual è il significato importante di questo? Ci fa vedere appunto come l'importanza dei greci ha sempre fatto sì che in qualche modo ognuno cercasse di appropriarsi della loro tradizione, perché se tu sei in grado di presentarti come erede dei greci, allora in qualche modo sei erede di tutta questa tradizione che è nata con la Grecia. Il caso dei nazisti è un caso estremo, ma non è l'unico caso, perché appunto c'è tutta una tendenza a usare gli antichi per legittimare si stessi. Quello che noi stiamo imparando adesso, appunto, è che questi usi e abusi dell'antichità sono appunto degli abusi molto, come dire, degli abusi veri e propri, perché sono delle costruzioni, delle finzioni, ma veramente, come dire, la ricostruzione di quello che i greci dovevano essere secondo i nazisti è una descrizione accurata del mondo antico. Molto spesso cos'è successo nella storia dei secoli ed è per questo che è così importante studiare la storia. Molto spesso cos'è successo? È successo che qualcuno ha attribuito ai greci quello che voleva essere lui. Il caso dei nazisti è il caso più eclatante, per questo che parlo dei nazisti, perché fanno vedere bene il problema, no? Loro, come dire, qual è l'ideologia nazista? L'ideologia nazista è l'ideologia della forza, della violenza, del più forte, della legge del più forte. E loro cosa facevano? Per accreditare, per dare valore alle loro idee, dicevano, questo è esattamente quello che ci insegnavano i greci, per questo è che dobbiamo tornare ai greci. Ma la domanda è, ma veramente i greci insegnavano questo? Queste sono, come dire, delle costruzioni, come dire, arbitrarie, fittizie di quello che era il mondo greco. La cosa interessante, appunto, che sta diventando così complessa è proprio perché l'immagine dei greci che abbiamo noi, come dire, la radice, il fondamento della tradizione europea è un'immagine che si è sviluppata nell'Ottocento e nel Novecento, cioè nell'epoca del colonialismo. E quindi i greci sono stati usati dalle grandi potenze europee, la Germania, l'Inghilterra, la Francia, come dire, a giustificare la superiorità dell'Europa rispetto alle altre tradizioni. E per giustificare la superiorità dell'Europa, dell'uomo bianco, no? Come diceva Kipling, no? Il fardello dell'uomo bianco. Per giustificare questa superiorità si sono usati i greci, no? Perché noi siamo gli eredi dei greci, i greci sono perfetti e quindi dobbiamo seguire i greci. Ma vi rendete conto che questo è un abuso, non è la vera Grecia. Tanto per fare un esempio, voi sapete che le statue sono tutte bianche e questo ha dato vita all'ideale del bianco come il colore perfetto, che guarda a caso sarebbe anche il colore della nostra pelle rispetto a quello degli altri popoli che vivono in Africa, in Asia, in India. Ma le statue greche erano colorate, era tutto diverso. Questa è proprio un'invenzione. Allora, quello che dobbiamo fare noi è appunto continuare a ragionare, a riflettere con il passato per evitare, come dire, per evitare di appiattirci su queste immagini stereotipate di quello che sono gli antichi, perché non dicono assolutamente niente, perché non dicono assolutamente niente di cos'erano i greci, ma dicono semplicemente qualcosa di quello che noi eravamo e volevamo essere. Ad esempio i potenzi coloniali, i potenzi imperiali, i rassisti. Ma proprio adesso che il mondo sta cambiando, che in qualche modo ci troviamo di fronte a questa sfida di doverci confrontare con nuove civiltà, con nuovi mondi in cui tutto si sta tenendo insieme, mischiando, confondendo. A questo punto quello che dovremmo fare è provare a vedere se veramente i greci hanno qualcosa da dire, se veramente i greci c'hanno qualcosa da dire per aiutarci in questo confronto, scontro con tutti gli altri mondi che è la globalizzazione. Ed è questa appunto la sfida, come dicevo prima. Quindi quello che vorrei dire io a questa domanda, che è veramente importante, è ancora una volta ricordarsi che studiare il passato è fondamentale, perché il passato ci dice chi siamo. E molto spesso questo è il risultato di costruzioni arbitrarie, mentre noi pensiamo che siano, come dire, delle cose naturali. Ed è necessario fare questo perché in questo modo potremo capire come fare a confrontarci con tutti gli altri esseri umani per cercare di costruire, come dire, dei valori condivisi. Ed è questa appunto, diciamo, la sfida che i greci ci stanno ponendo, perché poi il problema era sempre lo stesso, no? Cioè il problema è quello di, da un punto di vista filosofico, questo è un po' più complicato, ma è veramente fondamentale. Cioè quello che importa fare è trovare un equilibrio tra le nostre idee e in qualche modo dei principi universali, dei principi universali che possano valere per tutti. Tra le nostre idee quello che noi pensiamo essere giusto e quello che possiamo pensare essere giusto tutti insieme. C'è la necessità di trovare questo equilibrio. E non è una sfida facile, ma ancora una volta sono proprio gli antichi che potrebbero aiutarci ad andare nella direzione giusta. Sì, i sofisti sono i grandi nemici di Platone e non hanno mai goduto di, diciamo, di buona stampa nel corso dei secoli. Nell'antichità addirittura si pensava che i sofisti non fossero neanche dei filosofi. Aristotele ha una battuta fulminante contro di loro. I filosofi i sofisti si occupano dell'apparenza. La sapienza dei sofisti è una sapienza delle apparenze, dunque un'apparenza di sapienza, non è niente. Altri addirittura li accusano di essere dei cattivi maestri, dei ciarlatani, che insegnano soltanto, come dire, a ingannare gli altri, ma che non hanno nessuna idea veramente degna di attenzione. È un pregiudizio che è stato usato contro i sofisti per secoli. Ancora oggi, nelle lingue moderne, quando diciamo sei un sofista, lo usiamo come un termine negativo per dire qualcuno che gioca con le parole per ingannare gli altri. In realtà i sofisti hanno delle idee, sono tutt'altro che stupidi o banali. Diciamo, i sofisti partono da una intuizione fondamentale, che è quella di mettere in discussione il rapporto tra essere e pensare, essere e pensiero. Pensate ai grandi pensatori presocratici come Parmenide. La filosofia nasce nella convinzione che ci sia un rapporto in qualche modo dato tra noi e la realtà. Il frammento che citavo prima, stavo citando un frammento di Parmenide. Essere e pensiero sono la stessa cosa. Vuol dire che la realtà ha un ordine, ha un suo senso, una sua razionalità e noi abbiamo, grazie alla nostra intelligenza, al nostro logos, dicevano i greci, siamo in grado di comprendere questo ordine. Perché appunto c'è un rapporto dato tra noi e la realtà. E noi, se saremmo capaci di usare con ordine la nostra intelligenza, saremmo in grado di comprendere il senso della realtà. Gli sofisti fanno una domanda molto semplice. Ma perché? Ma perché dovrebbe essere così? Ma perché ci dovrebbe essere questa relazione certa tra la realtà e noi? Perché dovremmo essere così importanti? Se invece la realtà, come dire, fosse indifferente, non avesse nessun senso, nessun ordine, che cosa succederebbe? Allora i sofisti sono i pensatori della crisi, i pensatori appunto di una realtà che non è più una realtà, come dire, che noi siamo in grado di comprendere perfettamente, ma di una realtà in cui noi dobbiamo imparare a muoverci, una realtà ambigua, scivolosa, pericolosa, in cui noi dobbiamo imparare, come dire, a muoverci, perché non è una realtà fatta per noi. È una realtà in cui noi dobbiamo trovare il nostro posto. E questa è la sfida. Ed è una sfida fondamentale perché, vi rendete conto, cambia completamente i termini della discussione. E lo cambia perfettamente soprattutto perché ci spiega, ci mostra l'importanza di una cosa che fino a quel momento non sembrava importante, invece è fondamentale, l'importanza della parola. Perché a questo punto l'unica cosa che conta è la parola, è la capacità in qualche modo di usare le parole per fare ordine, per costruire qualcosa. È una differenza fondamentale perché nel caso di Parmenide o di tutti gli altri filosofi, qual è il compito della parola. Il compito della parola è semplicemente di esprimere e descrivere quella realtà che il pensiero ha scoperto. È una funzione descrittiva, come quella della scienza di oggi. La scienza cosa fa? La scienza ci spiega come funziona la realtà, le leggi che in qualche modo regolano il funzionamento della realtà. Invece per i sofisti, quando questo problema non è così importante, quando appunto il problema è quello di imparare a costruire qualcosa, la parola diventa qualcosa di diverso, qualcosa di molto più importante. La parola diventa l'unico strumento che noi abbiamo per costruire qualcosa, per creare qualcosa. La parola diventa politica, perché appunto è lo strumento che ci serve per stare insieme. Ed è ancora una volta, vedete, questa è la lezione pericolosa dei sofisti, è ancora una volta qualche cosa di ambiguo, perché la parola, quando ormai è staccata dalla realtà, quando ormai è semplicemente lo strumento che noi usiamo, quando ormai è espressione di quello che noi siamo, la parola diventa, come diceva un altro grande sofista Gorgia, diventa un farmaco, qualcosa che può curare, ma può avvelenare, perché a questo punto tutto dipende da come le usiamo le parole. Noi possiamo usare le parole per costruire qualche cosa insieme, oppure possiamo usare le parole, come dire, per distruggere, in qualche modo per seguire i nostri interessi contro quelli degli altri. Con le parole possiamo tutto, perché, come dice sempre Gorgia in questo testo molto bello che l'Encomio di Elena, la parola è qualche cosa di invisibile, microscopico, apparentemente minuscolo, ma la parola può tutto, con la parola chi sa parlare può fare tutto quello che vuole. E il problema è cosa vogliamo fare delle nostre parole. È un discorso veramente profondo, tutt'altro che banale, quindi vedete che i sofisti sono dei grandi pensatori che meritano grande attenzione, perché il problema è prima di tutto nei confronti di noi stessi, perché cosa saremmo noi stessi senza le parole? C'è un grande filosofo contemporaneo, Ludwig Wittgenstein, che l'ha detto, i limiti del linguaggio sono i limiti del mio mondo, cioè se io non ho parole per parlare non esiste più niente. L'esempio che possiamo fare è, io non sono un grande esperto di agricoltura, quando io vado in un bosco vedo solo degli alberi, qualcun altro invece vedrà una bettulla, un pino, vedrà delle cose, ma senza le parole che lo dicono, io non riesco neanche a vederlo. C'è il famoso esempio degli eschimesi che hanno tantissimi modi per descrivere la neve. Grazie alle parole loro vedono qualcosa che io non riesco a vedere, io vedo solo della neve, non sono in grado. Ma la stessa cosa non vale tanto per gli alberi e la neve, vale anche per noi. Se non abbiamo le parole per mettere ordine dentro di noi, dentro i nostri desideri, dentro le nostre emozioni, che cosa siamo noi? E questo è un primo problema. Cosa servono le parole? La sfida delle parole è quella di fare ordine, cercare di mettere in ordine, di costruire qualcosa. C'è un aneddoto che fa vedere benissimo qual è la sfida delle parole secondo i sofisti, ma l'aneddoto riguarda forse la persona che più di tutti è stata capace di usare le parole, ed era il ministro della propaganda nazista Joseph Goebbels, che se c'è uno che è stato capace di usare le parole, per far credere agli altri, quello che voleva lui è stato lui. Quindi, come dire, la quintessenza del sofista in senso negativo, uno che è capace di farti credere qualunque cosa. E questo aneddoto è qualcosa che si legge nei suoi diari, quando ormai loro sono a Berlino, assediata dall'Armata Rossa, nascosti nel bunker, e c'è una riunione, Adolf Hitler sta spiegando tutto, sta spiegando che sì, sembra che stanno perdendo la guerra, ma che in realtà adesso cambierà perché gli inglesi si renderanno conto che i russi sono pericolosi. E fa tutto un piano, un discorso molto bello, convincente, per cercare di convincere i gerarchi che la situazione a breve cambierà. E Goebbels la sera torna a casa, torna a casa, si prende nel bunker, però va alla sua stanza e scrive sul suo diario. Oggi Führer ha tenuto un discorso bellissimo, ha chiarito tutto, ma i fatti dove sono? Perché le parole servono a questo, servono ad aiutarci a confrontarci con i fatti, non a inventare qualche cosa. E ancora vedete la sfida delle parole. E la sfida delle parole, l'ultima cosa che voglio dire per mostrare l'importanza dei sofisti, è qualche cosa che ci deve servire per costruire qualcosa insieme, per costruire una serie di idee e valori che possono tenerci insieme. La differenza è sempre quella, no? Costruire un mondo umano di persone che stanno insieme, costruendo insieme, grazie alle parole, al confronto, al dialogo, una serie di principi che ci permetteranno di stare insieme. Se uno osserva qual è una delle grandi sfide che noi abbiamo davanti ai nostri occhi oggi, è esattamente la percezione che ormai ci stiamo, come dire, che la nostra società si sta dividendo in tanti mondi, è come uno specchio che si è rotto e che riflette immagini diverse della realtà, no? Sono le bolle in cui ci troviamo, le bolle dei social in cui ognuno si trova e ha un'immagine della realtà diversa da quella degli altri. Il compito del sofista, il compito del politico, il compito della democrazia è proprio quello invece di cercare di ricostruire un linguaggio comune per permetterci di confrontarci con successo, con i fatti, con la realtà che ci circonda, perché poi i fatti, prima o poi, arrivano, come il povero, come Goebbels aveva imparato a suo malgrado. E quindi la sfida vera è quella che ci hanno insegnato i sofisti, è quella di imparare, usare le parole per conoscere meglio noi stessi e per cercare di costruire qualcosa. Ed è una sfida molto attuale. Hola Mauro, soy Miguel. Antes menzioné la felicidad. Queria preguntarte di chi ha parlato dei filosofi quando parlavi di ella. Sì, questo è uno dei temi fondamentali della filosofia. Uno dei pensatori più importanti c'era un grande poeta e uomo politico di Atene che si chiamava Solone e a un certo punto dopo aver governato ad Atene e aver introdotto delle leggi molto importanti era partito, era andato in giro per il mondo, come dire, nel Mediterraneo, che voleva conoscere. Viene descritto come un filosofo, come qualcuno che desidera conoscere. A un certo punto arriva in Lidia, ancora una volta nella costa orientale del Mediterraneo, dove incontra l'uomo più ricco, più potente del mondo, che si chiamava Creso. Creso gli mostra tutto, gli mostra tutti i suoi territori, tutte le sue ricchezze e poi gli chiede ma chi è l'uomo più felice del mondo? E Solone continua a rispondere facendo riferimento a una serie di personaggi sconosciuti come Tello di Atene, che aveva vissuto una vita assolutamente oscura ed era morto tranquillo, circondato dai suoi cari, o come Cleo e Bibitone, che erano morti cercando di aiutare la madre ad arrivare in tempo a una funzione religiosa in un tempio. A un certo punto Creso si arrabbia, dice ma come? Ma perché non dice che sono io? Io sono l'uomo più ricco, sono l'uomo più potente, sono l'uomo più felice quindi. E Solone gli fa un calcolo, non ho mai capito quel calcolo esattamente. Comunque gli dice che sostanzialmente noi viviamo 60-70 anni e ogni anno diciamo contiene 365 giorni. Ogni giorno, dice Solone, ogni giorno porta qualcosa di nuovo. Quindi non puoi sapere se sarai felice perché magari domani succederà qualcosa che cambierà definitivamente la tua vita, che è esattamente quello che succede a Creso, no? L'uomo più potente del mondo a un certo punto sbaglia, decide di fare la guerra contro l'impero persiano e perde, perde tutto, perde l'impero e addirittura verrà bruciato vivo e a quel punto inizierà a urlare sulla pira che sta per bruciare, Solone, Solone, avevi ragione tu, no? E poi a quel punto Ciro, l'imperatore persiano, lo salverà perché vuole sapere, no? Perché? Allora che cosa ci dice quest'idea? Ci dice l'idea tradizionale di felicità per i greci. No, sostanzialmente l'idea è questa, l'idea è che la felicità, una vita felice, non la felicità, la vita felice come dicevamo prima, è qualcosa che non dipende da te, che dipende dalle circostanze perché tu sei esposto alle le circostanze e quindi quello che devi imparare è quello di imparare ad adattarti, a essere flessibile perché vivi in un mondo precario, non potrai mai realizzare pienamente i tuoi obiettivi e quindi devi imparare appunto ad affrontare, a navigare in questi tempi incerti. Sembrano delle idee molto attuali perché è esattamente quello che ci viene ripetuto tutti i giorni oggi, che dobbiamo essere flessibili, che dobbiamo imparare ad accettare le sfide della precarietà, è quello che un grande poeta italiano, Eugenio Montale, ha definito in versi fantastici, no? Felicità raggiunta, si cammina per te su fil di lama, hai piedi sei ghiaccio che si incrina, dunque non ti tocchi chi più ti ama, no? Come dire, la felicità è qualcosa di così prezioso che non dipende da noi e quindi l'unica cosa che possiamo fare è quella di imparare ad adattarci alle incertezze dei tempi in cui viviamo. Ecco, la filosofia, ad esempio Aristotele, nasce con la convinzione che tutto questo ragionamento sia completamente sbagliato, che quello che serve è esattamente il contrario, che quello che serve è una certa dose di ostinazione, di convinzione in poi stessi per cercare di affrontare, come dire, le sfide della vita senza piegarsi troppo, come dire, bisogna imparare ad essere flessibili naturalmente, ma non cedere continuamente, perché cosa succede se continuiamo ad adattare noi stessi alla realtà che ci circonda? Quello che succede è che perdiamo noi stessi, in qualche modo ci perdiamo di vista, perché noi cosa siamo? Noi siamo i nostri progetti, i nostri desideri, le nostre ambizioni. Se noi rinunciamo ai nostri progetti, alle nostre ambizioni, perché appunto dobbiamo sempre imparare ad adattarci a quello che ci circonda, a un certo punto noi rinunceremo noi stessi. Ma come possiamo vivere una vita felice se rinunciamo a noi stessi, se rinunciamo, come dire, alla possibilità, al tentativo, alla sfida di costruire qualche cosa che noi vogliamo costruire? Non è garantito, cioè, come dire, è una sfida, quindi il rischio dell'insuccesso è sempre dietro l'angolo, è sempre possibile. Aristotele ha una distinzione veramente interessante, perché Aristotele distingue tra i felici, infelici e i non felici. Sembra una distinzione, come dire, un po' astratta, invece è una definizione importante, perché gli infelici sono quelli che in qualche modo hanno rinunciato alla sfida di vivere, hanno rinunciato ai loro progetti, hanno rinunciato alle loro ambizioni, hanno rinunciato a se stessi e quindi in qualche modo si condannano da solo a una vita infelice. Ok? I non felici chi sono? Sono quelli che ci hanno provato, che hanno cercato e magari non sono riusciti, perché non sempre ci si riesce. Lui Aristotele discute un caso esemplare che tutti i filosofi in qualche modo hanno discusso, il caso di Priamo, il re di Troia, no? Un uomo generoso, un padre amato dai suoi figli, aveva 50 figli, un sovrano stimato dai suoi cittadini, una moglie che lo amava e poi un bel giorno sono arrivati i greci e hanno distrutto tutto. Allora uno dice è stato infelice. Beh, è stato non felice, certo nessuno può dire che Priamo è stato felice, però non è stato infelice, per cui comunque ha cercato di vivere, ha cercato di costruire. Poi non ci è riuscito, però capite, a parte come dire quelli che si trovano nella condizione di Priamo, che fortunatamente sono pochi, il messaggio per noi è fondamentale, il messaggio è quello che un po' di resistenza, un po' di ostinazione, nel cercare di perseguire i propri obiettivi, i propri desideri è fondamentale perché se noi rinunciamo a questo, stiamo rinunciando a tutto, ma a questo punto che valore ha la nostra esistenza, la nostra vita? Allora questa è la sfida della filosofia, sostanzialmente se c'è una categoria, un'idea, una descrizione per la filosofia antica è questa, se sei un filosofo antico pensi che in qualche modo sia possibile costruire una vita felice. Se non pensi questo, allora, come dire, la filosofia non ti interessa ed è meglio seguire Solone. Chi avesse ragione tra Solone e Aristotele io non lo so, però devo dire che, come dire, le teorie dei filosofi, questa idea dei filosofi che in qualche modo combattere per i propri progetti, per i propri desideri è qualcosa di necessario, penso che sia qualcosa a cui dobbiamo pensare con grande attenzione. Buonas Mauro, mi chiamo Mario e mi gustaría preguntarti, la concezione della giustizia che avevano i classi, come ha aiutato a formare la società moderna? Ecco, la giustizia è uno dei grandi problemi di cui i greci si sono occupati, soprattutto perché, come dire, in seguito allo sviluppo della democrazia, il problema della politica, il problema di imparare a stare insieme, come fare per vivere insieme, diventa un problema di estrema importanza per i greci e quindi il tema della giustizia ed effettivamente tutti i grandi scrittori, pensatori, filosofi si sono occupati della giustizia. Prima parlavamo di Platone, però, ad esempio, possiamo parlare anche, come dire, non c'è filosofo, non c'è scrittore che non si sia occupato di questi. Forse il testo più interessante per discutere del problema della giustizia è un piccolo dialogo che si trova non nelle opere di un filosofo, ma di uno storico che in realtà è un grandissimo pensatore, quindi in qualche modo anche lui è un filosofo. Lo storico è Tucidide, l'autore di questa storia della guerra del Peloponneso che racconta di questa guerra che ha contraposto Sparte e Atene tra il 430 e il 404 avanti Cristo e che ha visto, come dire, il collasso della democrazia atenese come conclusione. A un certo punto Tucidide ha un'intuizione geniale, no? Tucidide sta raccontando delle varie operazioni militari di questa guerra, perché quello che sta facendo lui è prima di tutto di raccontare i fatti, perché è uno storico. Però in realtà è uno storico, ma è anche un pensatore della politica, un filosofo. E a un certo punto racconta un episodio abbastanza marginale all'interno della guerra. A un certo punto Atene, la grande potenza imperiale marittima, no? La potenza che controlla tutto il Mediterraneo, decide che deve occupare anche, come dire, controllare anche una piccola isola apparentemente secondaria che è l'isola di Melo. È un fatto assolutamente significante, cioè la più grande potenza navale del mondo antico che decide di occupare una piccola isoletta che non ha nessuna importanza. Militarmente non c'è neanche da raccontare niente, no? Però Tucidide è un colpo di genio. Invece di raccontare semplicemente i fatti, immagina un dialogo in cui gli atteniesi arrivano a Melo e dicono, guardate ragazzi, è inutile che stiamo a fare la guerra, tanto vi distruggiamo. Vi proponiamo un dialogo in cui noi vi convinceremo che è per meglio per voi arrendervi piuttosto appunto che fare una guerra contro di noi. I meli cosa possono fare? I meli accettano perché sperano di convincerli. E quindi inizia questo dialogo che è una delle pagine filosofiche più interessanti del mondo antico, no? Questo dialogo sulla giustizia e sul potere. Quello che vogliono fare gli atteniesi? In qualche modo gli atteniesi diventano come degli insegnanti, perché quello che vogliono fare gli atteniesi è veramente insegnare come stanno le cose a questi meli che non capiscono niente, a questi studenti bambini e ingenui che ancora non hanno capito come vanno le cose, perché le cose vanno in questo modo. Quello che conta nel mondo degli uomini, dicono gli atteniesi, è il potere, l'interesse e la forza, cioè l'unica cosa che conta è la relazione tra interesse e forza, perché così vanno le cose nel mondo degli uomini. Questa è la giustizia. La giustizia sono parole che si usano per nascondere le relazioni di potere. E le relazioni di potere in qualche modo risultano da un'equazione matematica tra il tuo interesse e il potere, no? La tua forza, no? Tutti legittimamente hanno il loro interesse, no? L'interesse di Melo è rimanere indipendente, l'interesse di Atene è conquistare l'isola. Quello che conta non è l'interesse, quello che conta è appunto che è il potere è la relazione tra l'interesse e la forza, perché l'interesse di Melo è rimanere indipendente, ma non ha la forza per garantirsi l'indipendenza. Mentre l'interesse di Atene è occupare Melo e ha la forza per farlo, quindi quello che gli atteniesi stanno cercando di spiegare ai Meli, che basta fare un semplice calcolo matematico per verificare che è meglio per loro si arrendano, perché comunque è meglio che essere esterminati. Quindi sostanzialmente è proprio una lezione, la lezione diciamo di quello che nel corso dei secoli poi verrà chiamato realismo politico, in cui non devi guardare a principi ideali, a valori astratti come la giustizia. La giustizia, come dice un altro sofista nella Repubblica di Platone, è l'utile del più forte, è quello che il più forte impone al più debole. Quello che devi guardare è appunto guardare all'interesse, guardare alla forza, perché questo è il mondo degli uomini. È una lezione molto chiara quella degli atteniesi, no? Ed è una lezione, come dire, molto attuale, perché questa idea che in qualche modo noi possiamo controllare matematicamente il mondo degli uomini è un'idea che ritorna anche oggi in altri termini, no? Pensate all'importanza dell'economia rispetto alla politica nei dibattiti contemporanei, no? L'idea è sempre quella che possiamo misurare. I meli dovrebbero impararla questa lezione, è una lezione drammatica, perché non è che si sta parlando ancora una volta, non è che si sta parlando in teoria, eh? Cioè, noi lo sappiamo cos'è successo, è un fatto storico, è una storia tragica, tutti i meli verranno distrutti, ma i meli, i meli dicono di no, i meli dicono no, comunque noi non ci arrendiamo, comunque noi decidiamo di combattere. Allora, qual è il significato filosofico di questo? È una resistenza, quella dei meli, che non è soltanto militare. La resistenza dei meli, in qualche modo, è prima di tutto una resistenza intellettuale, perché quello che i meli si oppongono, quello che i meli in in qualche modo rifiutano. Non è tanto, come dire, i meli sono perfettamente consapevoli del fatto che militarmente i greci, gli atteniesi probabilmente avrebbero vinto, che le conseguenze sarebbero state catastrofiche. Ma quello che i meli rinunciano, quello che, scusate, quello che i meli rifiutano è l'idea che in qualche modo noi siamo soltanto questo animale cupo interessato al potere, alla forza, all'interesse. Rinunciano, rifiutano a questa idea che noi siamo solo questo. Loro dicono, noi possiamo anche essere altro, desiderio di libertà, desiderio di solidarietà. Ed è per questo che non ci arrendiamo, perché non accettiamo quest'idea. E infatti nel corso della storia, come dire, la tentazione di cedere alla lezione del realismo come se fosse una descrizione della realtà, come se fosse così che gli uomini sono soltanto interesse e forze, è una tentazione ricorrente. Ma non sempre le cose vanno così, perché è vero, nessuno è venuto ad aiutare i meli e i meli in qualche modo sono stati sterminati. Però altre volte, come dire, altre volte le cose sono andate diversamente. Prima facevamo riferimento al nazismo, no? E il nazismo era sostanzialmente un'altra versione di questa storia. Conta solo la forza, conta solo il potere, gli altri devono in qualche modo cedere e gli altri non hanno ceduto. E noi siamo qua. E noi siamo parte di quella storia, di quella storia di chi si è resistito, di chi si è opposto a questa idea dell'essere umano come solo violenza e forza. E l'Europa è nata lì, è nata dalle ceneri di chi si è sacrificato, di chi ha saputo resistere militarmente ma anche intellettualmente a quest'idea dell'essere umano. Ed è questo in qualche modo che fonda l'Europa. Quindi vedete veramente come quelle discussioni sulla giustizia ancora oggi ci aiutano a capire. Ci aiutano a capire una cosa molto importante, che la giustizia forse è più importante di quello che si pensa. E che dobbiamo imparare a distinguere tra la forza e il potere. La forza è quello che dicevamo adesso, il potere è la possibilità di fare le cose insieme. Ed è questo in qualche modo il fondamento vero, la vera realtà dell'essere umano, che è un essere più complicato. Non siamo soltanto degli animali appunto violenti, siamo anche capaci di bene. E questo appunto penso sia uno dei messaggi più attuali, più provocatori, perché di nuovo ci invita a cambiare un po' al nostro modo di considerare anche soltanto le relazioni internazionali che i greci ci hanno trasmesso. Ciao, Paolo, mi chiamo Cayetana e sono professora di filosofia nel Collegio Montserrat Fuen di Madrid. Nel tuo libro, La sabidura antica per i tempi moderni, dici che viviamo in tempi originali e interessanti, però anche dici che questo è una forma di defendere che è una parola del greco, greca, che si è trasmessa anche nelle lingue moderne, ad esempio in italiano ma anche in spagnolo, credo, che è effimero. Effimero viene dal greco epemeros, epameros, che vuol dire che dura un giorno. Quando noi usiamo la parola effimero, sostanzialmente noi abbiamo in mente, pensiamo a qualche cosa che dura poco, che non ha grande importanza, è bello? Ad esempio una farfalla potremmo dire effimera, una farfalla è bella ma è qualche cosa che dura appunto, come dicono i greci letteralmente epemeros, che dura soltanto un giorno, è mera. E allora il senso è, la domanda è qual è il senso, il significato dell'esistenza di questa farfalla nella storia dell'universo? Una farfalla ieri non c'era, oggi c'è, domani non ci sarà. E che cosa è cambiato? Assolutamente niente. Quando i greci usavano questa parola, epemeros, la usavano non parlando, non parlavano delle farfalle, parlavano di noi. Noi siamo gli esseri effimeri per eccellenza, perché qual è la differenza tra noi e una farfalla? A parte che noi viviamo magari un po' di più, non c'eravamo, ci siamo, non ci saremo. E allora qual è il senso dell'esistenza umana? E la domanda appunto, facendo riferimento non alle farfalle ma alle foglie che voi leggete in un canto bellissimo dell'Iliade di Omero, due eroi si stanno per scontrare e uno chiede all'altro dimmi chi sei, così che io quando ti ucciderò saprò che ho ucciso e aumenterò il mio trionfo. E l'altro gli dice, ma perché me lo chiedi? Noi siamo come le foglie, no? Un giorno ci sono, un giorno non ci saranno, non hanno nessun valore. Però poi se voi leggete quel passo, no? Bellissimo, no? E a un certo punto però lui dice, vabbè, però già che me lo chiedi, te lo dico. Inizia a raccontare di suo nonno, di suo zio, di suo cugino, va avanti a raccontare per versi e versi le avventure della sua famiglia, perché poi alla fine dice, ecco noi siamo questa cosa qua, io sono questa cosa qua, io sono qualcuno che non si è piegato, come dire, all'insignificanza, che ha voluto dimostrare che la nostra vita vale, perché questa è la sfida, in qualche modo, degli eroi omerici o del pensiero greco rispetto a noi. È il tentativo di mostrare che noi non siamo come le foglie, che noi non siamo come le farfalle, che la nostra vita ha un valore, ha un senso, ha un significato, che dobbiamo trovarlo questo senso. Appunto l'eroe omerico è il primo di questi modelli, ma il filosofo è la stessa cosa, cioè è un tentativo di mostrare che ci deve essere un senso da qualche parte, oppure che noi dobbiamo dimostrare il nostro senso, il nostro valore. Tutto questo in Grecia aggira intorno al tema della morte, appunto, il problema non è tanto che moriamo, lo sappiamo tutti che dobbiamo morire, ma il problema è che la morte sembra togliere valore alla nostra esistenza, per le ragioni che dicevo prima. Il tentativo dei greci, in diversi modi, è sempre lo stesso, cercare di dimostrare che la nostra vita deve avere un valore e che questa è la sfida più importante. No, torniamo anche al tema della felicità. La vita felice è una vita in cui io in qualche modo ho realizzato i miei desideri, le mie passioni, i miei talenti, in qualche modo ho lasciato qualcosa dietro di me, ho costruito qualcosa, ho dimostrato che la mia vita non era insignificante. E questa è la vera felicità. Non è tanto quella di quello che ha avuto la bella villa, il bel party, le vacanze al mare, nei posti più esclusivi, alle Maldive. No, non è quella, la felicità è questa, è questa capacità appunto di dare senso a quello che facciamo. E questa appunto è la sfida della filosofia, perché poi appunto la grande sfida è ma come si fa a dare senso alla nostra vita, a trovare il senso? L'eroe omerico è una possibilità, è quella diciamo della vita attiva, della vita in cui uno cerca di dimostrare il suo valore agendo. Il filosofo invece è la vita della conoscenza, cercare di capire, di comprendere. Di nuovo sono delle domande, vedete non c'è una risposta, ci sono tante possibilità. La vera felicità consiste nella conoscenza, magari su questo poi parleremo ancora, la vera felicità consiste nell'azione, nel costruire. Eh, bisogna scegliere, però almeno uno inizia a capire che le cose sono meno semplici, più complicate e per questo più belle di quanto non pensiamo. Quindi alla fine che la vera sfida è quella di cercare di capire dov'è il senso della nostra esistenza. Sì, è una bella domanda, perché intanto ci dovremmo chiedere, ma poi se veramente dobbiamo cercare di essere ottimisti a tutti gli effetti, a tutti i prezzi, a tutti i costi, oppure non sia anche necessario accettare una certa dosi di pessimismo per riconoscere che le cose non necessariamente non vanno come dovrebbero andare, che quindi in qualche modo in molti aspetti, pensate alla povertà, alle ingiustizie sociali, cioè sia anche giusto non essere contenti e quindi non accettare, non essere troppo positivi, perché molto di quello che ci circonda è negativo. E questo è un primo aspetto fondamentale, no? Imparare, come dire, sempre l'equilibrio tra realtà e valori, no? Imparare a guardare la realtà per quello che è e riconoscere che le cose non vanno come dovrebbero andare, che quindi in qualche modo è giusto combattere per cercare di cambiarle. E il problema è un problema fondamentale per voi oggi, per noi oggi, perché appunto viviamo, come dicevamo prima, anche in tempi incerti, in tempi precari, in tempi in cui, come dire, sembra di camminare, è come diceva montale, no? Su un terreno molto delicato in cui è facile cadere. E come fare? Cosa può fare la filosofia per questo? La filosofia, anche posso fare molto, detto onestamente, però può fare una cosa, cioè ci può insegnare, ci può insegnare a pensare. E in fondo questa è l'unica cosa che possiamo fare, perché un vero, torniamo a Platone, torniamo a Socrate, no? Voi vi ricordate, no? Socrate non sa nulla ed è per questo che è il più grande filosofo, perché quello che fa è, non è tanto di dirci, di dire ai suoi allievi che cosa devono pensare, che cosa devono credere. Quello che fa Socrate è cercare, come dire, di insegnare ai suoi allievi, ed è questo che dovrebbe fare un vero insegnante, un vero professore, di insegnare ai suoi allievi a come pensare, non a cosa pensare. E questa è la sfida della filosofia, no? Non dirti quello che, questa è la sfida di Platone, questa è la sfida di Socrate, cioè non dirti che cosa devi credere, che cosa devi pensare che sia giusto, ma semplicemente aiutarti a imparare a usare il pensiero, imparare a ragionare, perché non è che sia facile ragionare, bisogna avere pazienza, bisogna avere, come dire, grande perseveranza, ed è questo che rende la filosofia così importante. Sostanzialmente che cos'è la filosofia? È una forma di fiducia nell'intelligenza, nell'intelligenza delle persone. È una frase che diceva un grande scrittore italiano, Leonardo Sciascia, che dice io credo nella ragione, è in tutto quello che viene dalla ragione, non posso fare nient'altro, è quello che dice anche un grande pensatore politico italiano di nuovo, Antonio Gramsci, no? Il pessimismo della ragione, l'ottimismo della volontà. Quello che posso fare io è soltanto continuare a coltivare, a coltivare l'intelligenza, a coltivare il pensiero, nella speranza che a un certo punto, come dire, questo pensiero fiorirà. Però, appunto, avendo fiducia negli altri, questo penso sia la cosa più importante della vera filosofia, ed è una cosa che tante volte ho potuto esperire in prima persona quando mi confrontavo proprio con voi ragazzi. Tutti dicono, eh, ragazzi sono preoccupati, ragazzi non sono più quelli di un tempo. Io, invece, sì, è vero che non siete più. Per fortuna, guardate come hanno combinato il mondo, quello del passato. Però in voi vedo, come dire, la grande capacità di poter pensare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Quindi non ho niente da insegnare, la filosofia veramente non ho niente da insegnare, ma semplicemente, come dire, cercare di aiutare a comprendere che la realtà è qualche cosa di complicato, di complesso, che quindi, come dire, bisogna andare al di là della prima risposta, della prima idea che uno ha, ma provare ad affrontare i problemi da tutti i punti di vista, da prospettive diverse per vedere la loro complessità, e provare a vedere come fare per migliorare i problemi. E io penso, come dire, che da questo punto di vista, appunto, l'entusiasmo, la passione, la capacità, come quando uno si rende conto che le cose stanno così, allora la sfida della vita diventa una sfida interessante, non qualcosa di cui avere paura, ma qualche cosa che aspetta, come dire, ci aspetta per poter trovare nuove soluzioni. Perché vedete, prima citavo Wittgenstein, il filosofo inglese, austriaco, vabbè, che ha vissuto in Inghilterra. Wittgenstein dice un'altra cosa bellissima, no? Noi pensiamo, quando noi pensiamo al futuro, noi pensiamo al futuro come se procedesse in linea retta, no? Il tempo come una linea retta che va verso il futuro. Quindi il futuro sarà come oggi. E invece lui dice, il futuro va zigzaghi, il futuro è sempre diverso da come noi lo pensiamo. Non sappiamo, e diciamo, negli ultimi due o tre anni questa cosa l'abbiamo anche capita, perché vi ricordate il mondo di tre anni fa, prima della pandemia, no? Che il mondo è sempre diverso, che il futuro è sempre diverso da come lo pensiamo. È un dato che di fatto che abbiamo ben imparato a capire. E allora la sfida della filosofia, la sfida dell'intelligenza è di provare a pensare qualche cosa che ancora non c'è. Perché appunto la realtà non è qualche cosa che è inevitabilmente destinata a essere sempre la stessa. Noi possiamo anche cambiarla. E se voi guardate alla storia degli uomini, alla storia degli esseri umani, voi vedete che tante volte siamo stati capaci di cambiarla, di cambiarla verso il meglio, verso maggiore libertà, verso maggiore democrazia. Quindi alla fine, come dire, ci troviamo in un mondo, che è un mondo stimolante, un mondo interessante, anche se è un mondo pericoloso. E, come dire, io penso che se noi tutti cerchiamo di coltivare l'intelligenza, piano piano qualche cosa fiorirà. Hola Mauro, soy Diego Hernández e nos han estado comentando che come si relazionano gli esseri umani nella Odisea Iliada in Star Wars. Che non puoi commentare sobre questo? Sì, prima di pensare, prima di mettere insieme, di confrontare appunto un mito dei nostri tempi, un'epopea dei nostri tempi come i film di Star Wars e l'Iliade, un testo dell'antichità greca. Sembrano molto simili, grandi combattimenti, grandi guerre, però se uno ci pensa poi vede che la situazione è leggermente diversa. Dalla parte di Star Wars voi vedete un mondo molto chiaro, dove ci sono i buoni e i cattivi, dove ci sono i bianchi e i neri, dove c'è Luke Skywalker, dove ci sono la morte nera, dove in qualche modo bisogna trovare la forza, la forza pura che ci permetterà di sconfiggere il male oscuro, la luce trionferà. È un'immagine, come dire, molto semplice, molto semplificata dell'esistenza umana. Questa divisione è una tentazione quella di dividere il mondo sempre in buoni e cattivi, no? Se uno vede l'Iliade, se uno invece dice, ok, cosa succede nell'Iliade? Vedi un mondo molto più complicato, perché ad esempio, se voi leggete l'Iliade, non ci sono i buoni e i cattivi. Chi sono i buoni? Chi sono i cattivi? Omero è lì che tifa per tutti, no? Quando parla dei troiani cerca di dire, speriamo, bravo, bravo, proprio incita sempre tutti, vorrebbe tifare per tutti, perché in fondo, come dire, hanno tutti ragione, hanno tutti torto. E questa è la prima lezione di importanza. Cioè, mentre di noi abbiamo questa idea un po' mistica della forza pura che ci permetterà di sconfiggere le forze oscure del male, Omero ci mostra una situazione diversa, ci mostra che la forza, alla fine, è un'illusione. Perché la forza è qualche cosa che nessuno possiede veramente e che perderà sempre tutti. Perché cosa racconta l'Iliade? L'Iliade non racconta la storia della guerra di Troia. Voi sapete la guerra di Troia che è durata dieci anni, il cavallo. L'Iliade racconta semplicemente un pezzo molto piccolo di quei dieci anni, cinquanta giorni, cinquanta giorni dentro quella guerra. No, cosa succede? Dall'inizio, quando Agamemnon e Achille litigano, fino appunto al ritorno di Achille sui campi di battaglia. E quello che uno legge, leggendo la storia dell'Iliade, è sempre la stessa. Legge sempre questa storia eterna di esseri umani che a un certo punto si illudono di possedere la forza per risolvere il problema a loro vantaggio, pagandone un prezzo altissimo. E Agamemnon, che litiga contro Achille, pensa di poter imporre la sua volontà. E poi vedrà che l'esercito che lui sta comandando è destinato alla sconfitta. E Achille, che pensa appunto di essere più forte e porterà il suo amico Patroclo a morte. E Patroclo Ettore, che a un certo punto, come dire, nell'entusiasmo della battaglia, pensano di poter risolvere la guerra grazie alla loro forza. E verranno tutte e due uccisi. Cioè la forza è sempre un'illusione. È qualcosa che tu pensi di possedere, ma che ti possiede. C'è un testo stupendo scritto sull'Iliade, che ha scritto una filosofa francese negli anni 40, mentre era in fuga in Francia, Simone Weil si chiama, e scrive questo saggio bellissimo che si chiama L'Iliade, il poema della forza. Perché la forza è veramente ovunque nell'Iliade. Ma è appunto un'illusione. Lei lo scrive in un momento tragico della storia europea. Lei è una pensatrice francese, ma ebrea. Sta scappando da Parigi quando l'esercito nazista ha invaso la Francia. Sta andando verso Marsiglia. a Marsiglia che aspetta appunto una barca per poter andare negli Stati Uniti e salvarsi. È quello che fa leggere l'Iliade, perché lì c'è già tutto. È quello che impara. È prima di tutto questo, che la forza è un'illusione. Che la storia dell'umanità è questo tentativo, questa illusione ricorrente di poter risolvere i problemi con la forza che porta sempre, come dire, alla sconfitta. È l'eterna storia di Agamemnon, Epatro, Cloettore. Perché se voi guardate alla politica, guardate quante volte qualcuno ha ceduto a questa illusione. Qualcuno ha pensato di possedere abbastanza forza da poter imporre il proprio valore. E questa è la prima grande lezione che ci fa vedere appunto un mondo ancora una volta molto meno semplice, molto più complesso rispetto al mondo in cui i buoni a un certo punto troveranno dentro di sé la forza della luce e preverranno contro l'oscurità. Perché non è così, la realtà non è così. Perché il problema vero è come fare a opporsi, perché a parole siamo capaci tutti di riconoscere che la forza è un'illusione. Ma come fare a costruire un mondo giusto? Come fare a costruire un accordo, un compromesso, un dialogo che ci impedisca di cadere nella violenza, nella guerra, nella morte? Questa è la sfida, no? La sfida è proprio trovare l'equilibrio tra questa tentazione di cedere all'illusione della forza e dall'altro di imparare tutti a fare degli accordi. E questo è un primo punto fondamentale. Ma l'Iliade ci racconta una storia ancora più interessante se noi ci concentriamo sul grande protagonista dell'Iliade, che è Achille, no? Il grande eroe. E ancora una volta la storia che ci racconta Achille è una storia molto più interessante, molto più umana, molto più vera di quella che appunto ci raccontano questi grandi film che vediamo oggi, in cui le forze del bene vincono sempre. Achille chi è? Achille è l'eroe prescelto, è l'eroe per eccellenze, quello giovane, bello, forte, quello appunto che è destinato a conquistare la gloria, a dimostrare il suo valore, a diventare immortale, no? Achille è colui che ha scelto di morire giovane sul campo di battaglia per conquistare una gloria eterna. Achille è colui che pensa di poter sconfiggere la morte conquistando appunto l'immortalità, se pensate a quello che dicevo prima. Ed effettivamente questa è la storia di Achille nella prima parte del poema, no? Achille è l'eroe che in qualche modo rappresenta veramente l'ideale omerico, di quello appunto, come dicevamo prima, facendo riferimento ai versi delle foglie, di quello che veramente pensa che sarà capace di mostrare con il suo valore, con le sue azioni, conquistare in qualche modo un'immortalità, la gloria che sempre lo renderà eterno. Poi a un certo punto nell'Iliade succede qualcosa. Succede che Patroclo, il suo amico, l'unica persona che lui aveva, muore, no? Patroclo prende le armi, va a combattere al posto di Achille, pensa di poter vincere la battaglia da solo, si spinge troppo oltre e a un certo punto viene ucciso. A questo punto per Achille c'è come una rivoluzione, c'è come dire una specie di nichilismo apocalittico, perché Achille si rende conto che tutta questa illusione che muove gli esseri umani, no? Questa speranza di sconfiggere la morte, di conquistare la guerra, ma è un'illusione, perché la morte vince sempre, perché la realtà non ha senso, perché la vita non ha valore dopo che lui ha perso l'amico. E quindi la seconda parte del poema, che è la parte più bella, diventa una specie di incubo, in cui Achille decide che siccome è morto Patroclo, siccome l'esistenza umana non ha senso, allora tutto deve morire. Quindi Achille ritorna in battaglia, ma non è più l'eroe di prima che voleva conquistare la gloria, è semplicemente una furia distruttrice, è un angelo sterminatore, presentato sempre con termini diversi da tutti gli altri. E infatti iniziano queste, è veramente una carneficina la seconda parte del poema, in cui a un certo punto Achille combatterà addirittura contro un fiume, perché il fiume stesso dice basta buttare dentro cadaveri, sono diventato rosso a furia di ricevere i due. Achille però lo spiega a tutti, come dire, ma a che senso ha l'esistenza? Devi morire, no? E' questo il senso dell'esistenza umana, non ha nessun senso la nostra esistenza. Poi però appunto, e questo percorso culmina in un incubo ancora più grande che il famoso combattimento tra Achille e Ettore, in cui Ettore a questo punto, è proprio un sogno, con Ettore che corre, vi ricordate quando uno fa il sogno di correre, in fine Ettore che corre intorno alle mura di Troia con Achille, che lo insegue finché lo prende e lo uccide. E poi, come dire, siccome non riesce a capire il senso dell'esistenza umana, dopo l'attore non finisce lì, perché Achille poi cerca di martoriare quel cadavere, l'assassino di Patroclo. E quindi tutte le mattine si sveglia, lo lega al carro, lo porta in giro cercando proprio di… perché non riesce più a capire qual è il senso dell'Iliade, il senso dell'esistenza umana. Però appunto, vedete, l'Iliade non finisce lì, come si dice sempre, perché l'Iliade finisce con un altro sogno, perché improvvisamente, alla fine, improvvisamente, dentro la tenda di Achille, arriva il re di Troia, Priamo. Come ci sia arrivato? Difficile capire, no? Immaginatevi che il re della città assediata, a un certo punto, nell'accampamento dei Greci, nell'accampamento di Achille. Comunque, a un certo punto, punta fuori il Priamo. E c'è questo dialogo di una profondità incredibile, in cui il padre, che ha avuto il figlio ucciso, va dall'assassino e gli dice per favore rendimi quel corpo. E Achille vede in Priamo il padre che non rivedrà mai più. Quindi è un dialogo che in qualche modo diventa un dialogo eterno tra padre e figli, di fronte al dolore, la sofferenza, la privazione. E in quel momento, Achille, finalmente capisce che sì, che noi non siamo onnipotenti, che la gloria immortale è forse qualcosa che non conquisteremo mai, perché noi siamo esseri umani, siamo mortali, siamo fragili. Ma insieme possiamo trovare qualche forma di solidarietà, qualche forma di amicizia che ci permetta di costruire qualcosa insieme. Veramente bisogna cercare di capire, è il padre del figlio assassinato che chiede all'assassino di rendergli il corpo. E perché è così importante? Perché appunto quello che gli sta chiedendo è perché è così importante che gli chiede al cadavere. Perché vuole fare un funerale, perché il funerale è in un certo modo appunto di dare un ordine umano a questo fatto biologico della morte. E Achille in quel momento accetta perché finalmente capisce appunto che l'uomo è questo, è questa fragilità, è questa debolezza, è anche questa solidarietà. Ed è questo il messaggio profondo dell'Iliade. È un messaggio ancora una volta molto realistico perché poi Achille non gli dice adesso diventiamo amici. Gli dice ti do 12 giorni in cui noi non combattiremo perché tu possa seppellire in modo degno tuo figlio. Perché appunto tu possa in qualche modo dare un ordine umano a questo fatto della morte. Poi la guerra ricomincerà perché è così la natura degli uomini. Ed è questa l'ultima parola che ci lascia Omero, no? Noi siamo quella cosa, siamo quella capacità di solidarietà e siamo quella voglia di distruzione. È inutile illudersi che a un certo punto diventeremo buoni, però se ci ricordiamo che possiamo anche essere altro, allora magari potremo fare qualche cosa. Che era esattamente quello che diceva Simone Weil, no? Che alla fine non è la forza che conta, ma alla fine quello che conta è questa capacità di stare insieme. Chissà si ha ragione, però insomma, speriamo che sì. Hola Mauro, soy Carlos Yepes, estoy estudiando primero bachillerato nel Montserrat y me encanta la filosofía. En clase nos han hablado de un montón de filosofos, pero me podrías decir cuáles son para ti los más importantes, solo que los jóvenes deberíamos leer más y por qué? Gracias. Sí, es difícil de scegliere porque son, appunto, todos importantes, pero quizás podremos, a parte de grandes filosofas como Platón, como Kant, como Nietzsche, como Heidegger, quizás podremos, como decir, conceder un poco de importancia también a filosofas que normalmente no se vengan consideradas con la atención que incluso se debería de tener. y son los científicos, los científicos, que es un movimiento de pensamiento muy importante en la Antiquidad pero que luego se va a ser importante también en la Antiquidad y también en la Antiquidad. ¿Por qué son así importantes los científicos? Porque, en cualquier modo, nos ayudan a muoverse en un mundo que es nuestro nuestro. Porque nosotros estamos habituados a pensar en los términos de una oposición entre la conocencia y la ignorancia. Pero nadie realmente possede la conocencia, nadie sabe todo. Nosotros vivimos, en un mundo de hipóteses, de opiniones, y entonces debemos imparar a muoverse en este mundo porque mucho más lo que sucede en los debates públicos en nuestros días es una especie de la conocencia que produce una especie de la ignorancia. ¿En qué sentido? Cioè, mucho más se parte de la idea que hayan de autoridades, el medico, por ejemplo, que saben todo, que saben todo en el campo de investigación, que saben todo de la medicina. Y cuando se siente cuenta que el medico no tiene un sabido perfecto, el medico no es en grado de garantirse al 100% que las cosas andrán como dice él. El medico que consiglia a un paciente la terapia no es en grado de garantirse al 100% que la terapia andrán bien. a un certo punto cosa succede? Succede che molto spesso uno dice ma allora non è vero che il medico sa tutto, non è vero che il medico possiede una conoscenza perfetta, allora il medico è ignorante se non è conoscente, se non ha la conoscenza. Vedete, si ragiona nei termini di un'opposizione, se non ha la conoscenza allora è ignorante, ma se allora il medico è ignorante perché non ha una conoscenza certa che mi garantisce il risultato, ma allora perché non dovrei ascoltare qualcun altro, ad esempio quella persona, il mago che è in televisione che mi promette delle cure miracolose contro il cancro garantendomi il successo, perché no? Se tanto quella del medico è un'opinione, perché non dovrei seguirne un'altra che mi garantisce magari dei risultati migliori? Quindi vedete che molto spesso nei dibattiti pubblici di giorni d'odio, molto spesso appunto la conoscenza e l'ignoranza sono due termini che non si comprendono veramente, ed è perché questo che è così importante lo scetticismo? Perché lo scetticismo ci insegna invece a ragionare nei termini delle opinioni, delle ipotesi, perché quello che dobbiamo imparare è che è vero in un mondo complesso come quello in cui noi viviamo la conoscenza perfetta non esiste, la conoscenza perfetta ce l'hanno solo gli dèi, noi non siamo divini, noi non abbiamo una conoscenza esatta, noi viviamo in un mondo appunto che è sempre esposto al rischio dell'errore, del fallimento, però dobbiamo imparare appunto a muoverci in questo mondo che è fatto d'ipotesi, di opinioni, che è esattamente il mondo dello scetticismo, in che senso? Perché dobbiamo imparare a distinguere, perché ci sono opinioni, opinioni, ci sono opinioni che in qualche modo sono fondate sulla ricerca, sull'esperienza, sono opinioni che in qualche modo uno, di cui uno può rendere ragione, devi fare questo per questo motivo, anche se non sono sicuro, al medico, non sono sicuro che questo trattamento ti curerà dalla tua malattia, però comunque alle spalle c'è tanta ricerca, c'è tanta discussione, c'è esperienza che ci aiuta a fare e dall'altra parte ci sono delle opinioni che invece si fondano semplicemente come dire sull'autorità presunta di chi le espone, segui, segui questa terapia miracolosa perché mio cugino è guarito, e tutti gli altri. Allora, quello che dobbiamo imparare, se voi considerate proprio tutti i dibattiti pubblici in cui noi ci troviamo a vivere, sono sempre gli stessi, quello che dobbiamo imparare, imparare a vagliare a discriminare, a giudicare opinioni differenti perché nessuno ha la conoscenza, chi promette la conoscenza molto spesso è un charlatano, è uno che sta cercando di ingannarvi, però dobbiamo appunto imparare allora a non cedere alla conclusione ma allora nessuno sa niente, ognuno può fare quello che vuole, ad esempio seguire queste che mi... No, dobbiamo imparare appunto questo faticoso esercizio di cercare di fare ordine nelle opinioni, capire quali sono quelle più fondate che ci permettono di andare avanti e questo appunto è quello che gli scettici ci hanno insegnato a fare che non sono appunto il sciudicismo non è la negazione della conoscenza, della possibilità di conoscere, ma è semplicemente l'esigenza di imparare ad andare avanti nella ricerca che è esattamente quello che caratterizza gli esseri umani, per cui appunto anche se non si studiano mai io un po' di attenzione gliela concederei. Sì, questo è un problema molto importante per la filosofia perché se voi ci pensate non è soltanto un problema di divisione tra filosofi maschi e filosofi donne, se voi ci pensate noi studiamo i filosofi soltanto filosofi che fanno parte di una tradizione di pensiero molto precisa e molto circoscritta che è la tradizione occidentale europea, filosofi europei e filosofi americani, ma tutto quello che è successo in Africa, in India, in Cina noi non lo sappiamo, non lo consideriamo. La globalizzazione, cioè questo nuovo mondo in cui noi viviamo, fatto di confronti e di dialogo tra tutte le parti del mondo, ci sta appunto mostrando che la filosofia deve rispondere a questa sfida e cercare di imparare a dialogare anche con le altre civiltà. Questo è un primo problema, no? Di uscire da questa mentalità coloniale che l'unica cosa importante l'abbiamo detta noi perché noi siamo i migliori perché i greci erano greci ed erano europei. E poi naturalmente si tratta di considerare anche la filosofia, il contributo della filosofia femminile, delle filosofie donne, che effettivamente è un problema prima di tutto storico, cioè per secoli le donne hanno vissuto in una condizione diciamo di inferiorità dal punto di vista sociale, non hanno potuto studiare come studiavano i maschi, non hanno potuto lavorare come lavoravano e quindi chiaramente anche questo si riflette anche nel fatto che non hanno potuto filosofare, anche se noi sappiamo di tantissime donne con una grandissima intelligenza filosofica, ad esempio la regina di Svezia in corrispondenza con Cartesio. Noi sappiamo che molte delle idee in qualche modo derivavano appunto da questi epistolari, da queste lettere che scrivevano. Però c'è una filosofa che io vorrei veramente, della cui importanza e del cui interesse vorrei veramente parlare adesso ed è una filosofa pensatrice diciamo del Novecento che si chiama Anna Arendt. Tutti la conoscono per la sua relazione amorosa con il più grande filosofo, uno dei più grandi filosofi del Novecento appunto Martin Heidegger una relazione complicata perché poi come voi sapete Martin Heidegger a un certo punto anche è diventato nazista quindi in qualche modo questo ha proiettato un'ombra estremamente negativa su di Heidegger e anche sulla Anna Arendt in qualche modo. Però in realtà Anna Arendt è veramente una pensatrice interessante perché ci fa capire appunto quante possibilità ancora la filosofia ci può offrire? Un fatto molto interessante un fatto curioso che però dobbiamo prendere seriamente Anna Arendt ha sempre rifiutato di essere chiamata filosofa lei dice io non sono una filosofa che è strano anche perché lei era una grandissima filosofa ma perché? Cioè non è una battuta non è una manifestazione di umiltà no ma no è filosofo e canta cosa centro io no 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 lei ha sempre detto molto consapevole io non sono una filosofa perché? lo ha anche spiegato perché in qualche modo Anna Arendt ha iniziato a lavorare soprattutto dopo la seconda guerra mondiale dopo il nazismo dopo l'olocausto e lei era una pensatrice di origini ebree perché dice la filosofia io non sono una filosofa perché lei dice perché la filosofia ha fallito la filosofia non è stata in grado di capire cosa stava succedendo non è stata in grado di capire il nazismo non è stata in grado di capire l'olocausto non è stata in grado di capire niente e quindi in questo modo a me non interessa la filosofia se la filosofia è quella storia lì è quella storia che nasce da Platone e va avanti con Kant con Hegel quindi lei fa un attacco frontale alla filosofia che è molto interessante perché lo fa filosoficamente cioè la filosofia persa nel suo desiderio di conoscenza perché poi la filosofia è questo questo desiderio di conoscere filosofia no il desiderio della conoscenza non è stata capace di comprendere il mondo degli uomini no ha perso in questo mondo ideale delle idee dei pensieri non ha capito cosa stava succedendo quindi bisogna rifondarla bisogna ripartire da capo che è esattamente quello che lei ha fatto nelle sue opere principali la prima opera importante è la condizione umana The Human Condition in cui lei dice sostanzialmente finora i filosofi cosa hanno fatto? i filosofi si sono occupati della conoscenza ma bisogna occuparsi dell'azione di quello che facciamo perché i filosofi come dire parlano solo della conoscenza ma poi tutto quello che noi facciamo nelle nostre giornate non sono in grado non gli interessa è un'attività minore è invece fondamentale cosa vuol dire lavorare cosa vuol dire agire cosa vuol dire agire insieme cosa vuol dire produrre e quindi ecco che in questo libro bellissimo lei cerca di mostrare ritornando tra l'altro come al solito ai greci che appunto le cose più interessanti sono proprio nel campo dell'azione perché noi prima di tutto agiamo siamo esseri che fanno delle cose che agiscono che cercano di costruire qualche cosa e questo è qualcosa che dobbiamo capire no? questo è un primo punto secondo me interessante perché apre una nuova idea di filosofia in cui quello che conta è veramente la nostra esistenza concreta non quell'io ideale astratto puramente razionale di cui hanno sempre parlato i filosofi no? l'anime di Platone il sé di Cartesio l'io trascendentale di Kant no? siamo noi nella nostra vita nella nostra vita quotidiana esposto appunto a tutte le sfide della nostra cosa vuol dire vivere cosa vuol dire agire questo dobbiamo occuparci e poi naturalmente questo non vuol dire rifiutare il problema del pensiero perché noi siamo appunto anche esseri razionali quindi dobbiamo anche indagare Ann Arendt infatti nell'ultima opera meno conosciuta della condizione umana ma altrettanto importante che è la vita della mente ha indagato il pensiero perché poi appunto il pensiero è fondamentale per vivere non conta agire bisogna anche capire cosa facciamo il problema come dicevamo prima con la professoressa il problema non è tanto quello della conoscenza il problema è quello del senso no? ci sono una serie di domande che sono fondamentali e che non avranno mai una risposta che sono le domande della filosofia che cos'è la giustizia che cos'è la felicità ma non c'è una risposta a queste domande ma per fortuna perché ognuno di noi ogni generazione deve cercare di dare una risposta come dire l'idea è che aumentando la conoscenza e noi stiamo aumentando le nostre conoscenze pensate a tutto quello che stiamo scoprendo dell'universo tutto quello che stiamo scoprendo del nostro cervello cioè come dire la scienza sta veramente procedendo in un modo incredibile ma non rispondi a queste domande che cos'è la giustizia che cos'è la felicità sono domande senza risposta molto spesso si dice allora se non hanno risposta è inutile porsene ma che senso ha una vita che non si ponga queste domande che non si ponga la domanda come devo vivere cosa vuol dire vivere bene quello di cui parlavamo prima ecco appunto Anna Arendt in questa seconda parte delle sue opere si occupa anche di questo del problema appunto del significato dell'esistenza del contributo che il pensiero può dare alla nostra vita perché lei appunto voi sapete lei è famosa c'è anche stato un film molto bello e famoso in cui lei ha partecipato a un evento storico di portata mondiale al processo a un gerarca nazista Adolf Eichmann e lei lì ha capito una cosa importantissima ha capito che il male è qualche cosa di molto più complicato di quello che pensiamo noi perché c'è il male assoluto il male è quello del diavolo nella tradizione teologica e religiosa il male dei nazisti ad esempio ma c'è un'altra forma di male che lei ha chiamato la banalità del male che è il male che uno fa quando vive senza pensare quando uno si lascia vivere quello che lei ha scoperto assistendo al processo di Eichmann era appunto come dire la totale mancanza di pensiero nelle risposte e nell'azione di questo gerarca nazista che in qualche modo continuava a giustificare le sue azioni lui era stato come dire aveva avuto incarichi di grande responsabilità nell'organizzazione pratica dell'olocausto quindi aveva contribuito alla morte di tantissimi ebrei e lui continuava a rispondere in qualche modo con frasi fatti luoghi comuni senza mai pensare e lei dice il pensiero è fondamentale perché l'unica cosa che noi abbiamo per renderci conto di quello che stiamo facendo il pensiero questa è l'importanza della filosofia è quella di cercare di fermare le persone ma ci pensi a cosa stai facendo cioè sei consapevole di quello che stai facendo oppure stai semplicemente seguendo la corrente e facendo quello che fanno tutti e lei dice ci sono dei momenti nella storia nella vita di ciascuno di noi in cui fermarsi e pensare ti può salvare e questo appunto non è come dire soltanto in grande stile nei grandi momenti il nazismo l'olocausto ma anche nella vita di tutti i giorni i momenti in cui uno magari per debolezza per paura segue la massa no pensate quando si creano tra i ragazzi quelle situazioni in cui tutti se la prendono con qualcuno che diventi in qualche modo l'oggetto delle critiche della derisione uno magari per paura di essere isolato dal gruppo dalla logica del gruppo anche lui partecipa a questo attacco contro questa persona e invece bisognerebbe avere il coraggio di fermarsi ma è veramente giusto è veramente quello che voglio provare ad andare contro non è facile però appunto se non impariamo a vivere pensando non finisce bene e quindi vedete che Anna Arendt secondo me è una pensatrice davvero interessante perché ci offre ancora una volta nuova luce nuove prospettive per ripensare a come viviamo e a come potremmo e non soltanto come dovremmo vivere Sì, i miti sono importanti perché raccontano delle storie apparentemente lontane bizzarre che sembrano come dire non avere nulla a che fare con noi ma in realtà raccontano proprio come dire ci aiutano a comprendere meglio a fare ordine nella come dire nella frammentarietà della nostra della nostra esistenza a darci in qualche modo una specie di di ordine appunto di traiettoria ed è difficile scegliere quale mito ci possiamo come dire quale mito sia più attuale perché lo sono tutti allo stesso modo forse potremmo parlare del mito di Ulisse che è uno dei miti più belli che ci siano stati trasmessi dall'antichità però lì una cosa interessante che dobbiamo osservare proprio per far vedere come dire la vitalità dei miti perché il mito di Ulisse così come lo conosciamo noi non è un mito è un mito che in qualche modo non viene dall'antichità perché per noi Ulisse chi è? Ulisse per noi l'eroe della conoscenza no per farvi degli esempi tratti dalla contemporaneità qualche tempo fa l'Agenzia Spaziale Europea ha fatto una delle più grandi come dire progetti e tentativi scientifici mandando un'astronave a studiare il sole e tutta l'eliosfera e come l'hanno chiamato questo progetto? L'hanno chiamato Ulysses perché appunto era un viaggio mai sperimentato era un viaggio nuovo un viaggio alla scoperta dei segreti del sole del pianeta da cui dipende la nostra vita e chi altri meglio di Ulisse rappresenta questo desiderio di conoscenza questo viaggio verso la conoscenza pensate a uno dei film più famosi che sono stati fatti Odissea 2001 Odissea nello Spazio a parte il titolo ma il protagonista voi sapete come si chiama? si chiama David Bowman David è in qualche modo un nome ebraico l'ebreo errante Bowman è l'uomo con l'arco è Ulisse quello che nell'Odissea alla fine con l'arco ucciderà tutti i proci però la cosa strana la cosa interessante se voi guardate questo mito dice ok Ulisse quindi l'Odissea di cui parlavamo prima nella domanda ma nell'Odissea Ulisse non gliene frega niente non gliene importa nulla di conoscere Ulisse vuole solo tornare a casa Ulisse è l'eroe diciamo della nostalgia di questo desiderio di tornare a casa e allora da dove viene questo desiderio della conoscenza da dove viene questa idea questa immagine questo mito di Ulisse eroe della conoscenza questa è una riscrittura una reinterpretazione di Ulisse che dobbiamo a un grande poeta italiano un poeta medievale che si chiama Dante Dante Alighieri nella Divina Commedia lui nella Divina Commedia si inve... lui non conosce il greco non ha mai letto l'Iliade non ha mai letto l'Odissea però in qualche modo sapeva di Ulisse e in qualche modo usando alcuni testi si inventa questo nuovo personaggio un personaggio appunto che è caratterizzato da questo desiderio di conoscere sostanzialmente l'Ulisse di Dante è l'Ulisse che ancora noi abbiamo in testa tutte le volte che pensiamo Ulisse perché Ulisse è l'eroe della conoscenza sostanzialmente chi è che ispira veramente Dante nella costruzione di questo nuovo mito del mito di Ulisse dell'eroe della conoscenza è ancora una volta la filosofia greca è ancora una volta Aristotele perché appunto che cos'è la filosofia? La filosofia è questo desiderio di conoscenza e l'Ulisse dantesco è veramente in qualche modo la rappresentazione grandiosa di quello che è la filosofia quando e se voi leggete quei versi meravigliosi del canto 26esimo dell'Inferno in cui Ulisse racconta Dante il viaggio alla Divina Commedia è un viaggio che Dante compie nell'Inferno nel Purgatorio nel Paradiso nell'Inferno incontra Ulisse gli dice ma raccontami la tua storia e Ulisse racconta no appunto racconta che era stato prigioniere a un certo punto arriva come un bivio da una parte è la strada verso casa finalmente tornare a Itaca e dall'altra invece c'è la possibilità di superare le colonne di Ercole quelle colonne che miticamente chiudevano il mondo degli esseri umani e Ulisse dice io ho parlato ai naviganti ai compagni di viaggio gli ho fatto un discorso famosissimo bellissimo che si conclude così fatti non foste a vivere come brutti ma perseguire virtù e conoscenza e a questo punto i suoi compagni sono così presi dal desiderio di conoscere che decidono di partire in questo viaggio assurdo folle dice Dante alla scoperta dell'universo che è questo viaggio dall'altra parte dell'universo che si concluderà tragicamente in un naufragio davanti al purgatorio questo fatti non foste a vivere come brutti ma perseguire virtù e conoscenza è esattamente la filosofia di Aristotele cioè che cos'è l'essere umano l'essere umano è un animale razionale cioè noi non siamo fatti per vivere come animali pensare al piacere pensare al divertimento noi siamo qualcos'altro noi siamo questo desiderio di conoscenza è questo desiderio che ci sta spingendo avanti è questo desiderio che ci ha portato fino a qua questo desiderio di capire di conoscere lì la vera felicità la felicità vera è questa capacità di comprendere di dare senso cioè la felicità vera non è quella del miliardario che fa una bella festa con tutti i vip la felicità vera è quella di Einstein nel momento in cui capisce la legge della relatività in cui capisce come dire la legge che tiene insieme l'universo ed è per questo che Ulisse parte ed è per questo che Ulisse ancora oggi ci parla con tanta potenza perché appunto ci ricorda dentro di noi questo desiderio così forte che noi abbiamo per conoscere che è appunto la filosofia il desiderio di sapienza vi ricordate all'inizio quando parlavo di Platone la filosofia è desiderio di che cosa questa è la risposta il desiderio di conoscere il desiderio di dare senso il desiderio di comprendere però vedete anche che c'è un piccolo problema perché Ulisse quando sceglie quando è di fronte al bivio e decide di partire per questo volo per questo folle volo dice Dante per questa navigazione alla scoperta dell'universo alla ricerca della conoscenza Ulisse come dire deve rinunciare alla patria deve rinunciare alla moglie deve rinunciare al padre deve rinunciare al figlio Ulisse deve rinunciare al mondo degli uomini Ulisse deve rinunciare all'impegno pratico all'impegno etico all'impegno politico deve rinunciare a quel mondo e allora vedete che il mito ci racconta di una tensione fondamentale ci racconta della tensione fondamentale tra il desiderio di conoscenza e l'impegno pratico l'impegno etico l'impegno politico. Chi è oggi l'erede di Ulisse, l'erede del filosofo? Chi potrebbe essere oggi? Un erede del filosofo oggi è lo scienziato, è lo scienziato che sta continuando questo viaggio alla scoperta dell'universo. Effettivamente i progressi della scienza sono progressi, appunto lo dicevamo anche prima, sono progressi incredibili, clamorosi. Conosciamo sempre di più appunto l'universo che ci circonda, conosciamo l'universo nella sua dimensione più grande e nelle sue dimensioni più piccole, cioè stiamo capendo, stiamo realizzando sempre di più, stiamo addirittura diventando quasi degli dèi, possiamo modificare il DNA, conosciamo veramente, stiamo iniziando veramente a conoscere i segreti della vita. Ma questo desiderio, questo desiderio di conoscenza non ci dice niente sul bene e sul male, no? E quello appunto è lo stesso problema di Ulisse, no? C'è un aneddoto bellissimo che riguarda Oppenheimer, il grande scienziato fisico che in qualche modo aveva coordinato il progetto della costruzione della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale in America, no? Stavano cercando, c'era questa gara, costruire tra i nazisti e gli americani la bomba atomica come arma che avrebbe in qualche modo permetto di finire la guerra. Oppenheimer fa riferimento a un altro mito della tradizione biblica, però a un certo punto dice, noi stavamo studiando, stavamo cercando di comprendere appunto tutto quello che riguardava la fusione, la fusione, scusate, la fusione nucleare per creare questa bomba. A un certo punto abbiamo iniziato a comprendere il potenziale distruttivo di questa bomba. Ci siamo resi conto che stavamo per costruire qualche cosa di veramente mostruoso. E poi dice, abbiamo voluto mangiare dalla mela. Il desiderio di conoscenza, il desiderio veramente di diventare come Dio, no? Capace di distruggere tutto e di creare e di distruggere. È stato più forte, come dire, delle preoccupazioni etiche, politiche. Ed è esattamente lo stesso problema di Ulisse, che è esattamente lo stesso problema che abbiamo noi oggi. Le nostre conoscenze aumentano, il nostro desiderio di conoscenza trova risposte sempre più soddisfacenti. Ma il problema del bene e del male, quello è ancora lì che aspetta di essere, non dico risolto, ma affrontato. Ed è esattamente la sfida che ci aspetta oggi, perché la scienza ci permette di fare tutto quello che vogliamo. Possiamo addirittura modificare appunto il DNA. Ma per farne cosa? E la risposta è meglio che la diamo noi, che cerchiamo di darla noi prima che qualcun altro la dia per noi. Come vedete appunto siamo sempre lì, siamo sempre, come dire in viaggio con Ulisse. Ti ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.